ok allora rimasti qua e sinceramente non mi ricordo neanche di preciso dove vediamo come vuole questo che vanno da fare piramide song ah qua c'è da incontrare giudì al tramonto qua c'è da parlare con vasquez killing in the name ispezione il sito menzionato dal messaggio tanto libertà di stampa entrare nello studio televisivo vediamo questo qua ma è distante tre chilometri sto studio televisivo beh qua c'è qualcosa be how you been 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 all right was thinking could drop by for dinner maybe joss has worked up a hankering to cook for the family and magari un altro volta appreciate the invite river but gonna have to pass another time maybe shame johnson me we cook up a mean stew you know me especially don't doubt that at all it's just now is not a great time sorry it's all right but i won't take no for an answer next time see you around river ok qua c'è tipo una rapina in corso io non avevo beccato anche tipo un'altra pistola non mi ricordo mica questa comunque fa più danno non mi ricordo ok Grazie per la visione! Ok, lì fuori dalle palle. Ok, l'ottiamo quello che possiamo qua in giro. Devo raccogliere le prove. Cosa sono qui? Ok, nice. Ho completato l'incarico. Allora, vediamo un secondo una cosa. Ah, c'è proprio qui un punto di scambio. Ok, volevo vendevole a svuotare un po' l'inventario di roba. Ah, ho beccato i 2000 per aver liberato qua. Ah, ok. Ok, questa via. Vediamo anche questa. Oddio, quanti cazzo. Oddio, ma fa 680. 719 questo macete qua. Fuori di testa. 4,92. Vendiamo. 4,27. Vendiamo questa katana qui. 3,30. 3,30. Andiamo anche questa. 3,35. Oddio, fa 6,100 questa katana. Vabbè, questa la teniamo. Vediamo i vestiti. Un secondo. Voglio... Che hanno tutti meno armatura, queste qua. Tutto di meno, anche qui. Vediamo la maglia sotto. 95. 95. Ah, questa qua di più. C'è pantaloncini, ma what the fuck. Ah, vi lascio questi qua che sono più fighi, perlomeno, da vedere. Anche se hanno leggermente meno armatura. Allora... Ok, allora. Questo qua lo tengo. No, ma vedi che sono uno stupido del cazzo. Scusami, eh. Le... 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 Perché mi ha messo addosso queste scarpe qua? 48... 47... Mettiamo queste, 53. Vieneva tutta esa robaccia qua. Allora. aspetta questo qua la teniamo, qua le granate, bla bla bla, oddio, questi anelli qua prendono un botto di soldi, ok, ok va bene, questo è un po' le questo è un po' le e lo è un po' le questo è un po' le io non lo so questo è un po' le non lo so we will make history we will make history questa radia qua Uh, Jefferson? Listen, I need your help again. Matters, priori. Sure, ok. What's it about? Not on the hollow. Come by, I'll lay it out. Explain everything. Got your bag, Jefferson. Not to worry. Great. We'll see you here then. Remember where? Of course. Be there in no time. Ok, allora abbiamo anche un'altra quest dal tizio, quello lì, che ci ha fatto conoscere lì la gente. Iga, mi sto schiantando su ogni cazzo di cosa, dai. Ben capito. Aspetta, aspetta, qua c'è qualcosa. Mokamichi Yamada, a.k.a. Motoboy. Citi's put up a reward for the removal of Yamada and his accomplices from the area. Do not eat from unlabeled camp. Ah, ma. Ah... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, mi dice che è in sicurezza l'area, ma è già in sicurezza l'area. Sono morti tutti. Ah, aspetta. C'è ancora un coglione qua sopra. Oh, ha buggato. È rimasto fermo. Oh, ha buggato. 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 Trova Max. Non ho idea di che questo sia questa parte. Grazie a tutti. Oh, ha buggato. 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 Oh, ho buggato. Oh, ha buggato. Oh, ha buggato. Intanto lutto la roba Ah ok mi sto seguendo Perché è tutto lì Ho paura che Un chauffeur? C'è il prossimo champagne? Black market, synth cigars? Non c'è tempo a perdita Let's go Si, ti aspetta, Max Si, ti aspetta Aspetta, chiamiamo l'altra auto Ok Devo ottenere la ricompensa Ah è qui, ok Ottenere la ricompensa Oh bella 4000 Oddio, chi è sto sparato fuori con le gambe? Le gambe robotiche e il cappello da cowboy Ma Come cazzo ne ho infatti quei personaggi Sti personaggi, cioè Vediamo un po' Ok Ho aumentato la ricarica con le pistole Vediamo un po' Vediamo un po' Qua c'ho C'ho quante incariche secondarie ci sono Vediamo un po' Un altro po' di Di contratti qui Ok Bella pensione Tigre contro tiger What? Stituazione surriscaldata Un altro po' Andiamo a incontrare questo serghe Vediamo quanto è lontano Neanche due chilometri dai Non capisco perché non si sente la radio Vediamo un po' 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 Cazzo c'era da girare lì Cazzo 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 Ok Ok Troppo bello Ok Ok Bel posto Ok 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 che sembrava. Probabilmente in il dormito. Una morta tranquilla in questa provincia? L'amore ha vinto il jackpot. Va a puke? Mi senti quello, certo? La ventilazione. Vapors from the room upstairs. Wait, wait, è questo... Neoamphetamine. Vuoi dire che puoi prendere la droga exacta da solo un uff? Eh, come un po' di polizia o cosa? Io diria più come un... Sommelier. È tempo di guardare al suolo. Mi senti che ci servono di rippo. Alcora vicino a un vento. Ok, allora andiamo su. Ma non ho abbastanza... Forza. Ma che cosa faccio ad entrare? Ma che cosa faccio? Ma che cosa faccio? No. Ma che cosa faccio. La passcio alla這裡? Hei. È un po' di forno. Ma che cosa faccio? Ma che cosa faccio... Mi ha fallito pure questo, ma vaffanculo, cioè, non c'è un aspa, sembra che abbia trovato il modo. Fanculo, si è girato proprio all'ultimo, sto pezzo di merda. Fanculo, va. Mi luttarono un attimo in giro qua. Il cazzo di laboratorio è un fatto qui dentro, sto motello. Ah, questo qua non era neanche un nemico, però un testimone, fanculo. Surrendere immediatamente. Quel cazzo. E tanto qua la polizia va via quasi subito. Andata via, bella. Ah, sarebbe questa qua davanti. Ok, allora andiamo al secondo qua, intanto. Deposito oggetto in carico. Non mi ha dato molto, però va bene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh Quanti cazzo ne stanno arrivando? Ah, la pistola di Johnny è qualcosa di devastante Ok, bella lì, mi ha dato altri 2.000 Ho un sacco di roba qua da prendere Dopo questa qua la rivendo tutta Ok, c'era una roba qua tipo epica, sì Che però non mi fa prendere Perché sta... Che bug, guarda te, è morto e sta parlando Ok What? C'è la macchina per aria Bella, bastavano due colpi di pistola per farla scendere, mi sembra giusto Ok Ah, direi... Penso che possa bastare qua Abbiamo trovato anche un bel bug Cioè due bei bug Boh, la prossima cosa andiamo... Penso da... Da Judy Vedere l'entro in carico secondario E noi sarei la ferite... Grazie a tutti.